Ciao amiche creative Allora prima cosa ringrazio i miei nuovi iscritti del mio canale vi mando un bacio e ringrazio tutte le persone che stanno partecipando al mio GimmeWay che io non riesco ancora a pronunciare ma ce la sto mettendo tutta quindi vi mando un bacio grande a tutte le partecipanti adesso vi faccio vedere due mie piccole creazioni anche se in realtà le creazioni erano tre ma risultano due perchè stamattina ho messo la creazione degli orecchini che avevo creato qualche giorno fa e li ho venduti come niente quindi non ho avuto l'occasione assolutamente di farvi vedere questi orecchini favolosi vi faccio vedere questo ciondolo ho cambiato postazione perchè spero che la mia videocamera metta a fuoco questo ciondolo molto semplice creato con perle e cristalli bigono svaroschi ho acquistato da hobby perline sto preparando alcune creazioni per il periodo natalizio e già penso al natale e siccome mi chiedono sempre creazioni semplici ho pensato di fare un ciondolo del genere poi ho fatto questa farfalla che già l'avevate vista in brick stitch l'ho fatta su richiesta me l'hanno richiesta per il telefonino infatti devo mettere il phone strap e spero che vi piace queste sono le mie piccole creazioni devo fare ancora altre cose che non ho terminato e mi dispiace che non sono riuscita a farvi vedere questi orecchini spero di avere l'occasione di poterli rifare perchè comunque sia sono andate a buon fine come vendita penso che ne farò molti vi mando un bacio vi saluto ci sentiamo presto ciao